Buon anno con i carabinieri, i calendari storici illustrati e il titolo della mostra visibile fino al 12 giugno nella biblioteca della regione Piemonte. L'allestimento curato da Guido Masera propone l'intera collezione dei calendari storici dell'arma dei carabinieri dal 1928 ai giorni nostri. Particolarità del primo esemplare è che fu concepito come datario dal quale veniva staccato ogni giorno un foglietto, il classico calendario da muro, usa e getta. Molto apprezzate dai collezionisti le annate risalenti ai primi anni 30, quando viene ripresa la pubblicazione per volere del Comando Generale dell'arma che tuttora ne cura l'edizione. Questa mostra è dedicata ai calendari dell'arma dei carabinieri, in particolare ai carabinieri che quest'anno festeggiano i 200 anni della loro fondazione. L'ho iniziata 25 anni fa quando mi sono congedato da carabinieri ausiliario, ho iniziato piano piano dai mercatini, sono riuscito a trovare piano piano tutti i calendari fino ai primi della serie della Fiamma Fedele da cui è nato il tutto. L'ho iniziata 25 anni fa quando mi sono congedo a trovare la buona, ho iniziato a trovare la buona, ho iniziato a trovare la buona.